il film è molto interessante mi è piaciuto soprattutto la scenografia e poi è molto semplice si vede che non è molto costruito però il messaggio interessante proprio il filo conduttore sono i rapporti tra questi ragazzi molto garbato divertente una parte che è diverso dal solito modo di far ridere poi anche molto vicino ai giovani diciamo la vita universitaria il carriere è un film divertente insomma è leggero e positivo il parere è positivo un'opera low budget veramente ben riuscita divertente brillante direi sono studentessa fuori sede come loro quindi mi è piaciuto è stato bello vedere dei ragazzi come sono io sullo schermo